Con un improvviso cambio di location, causa maltempo da Piazza San Francesco all'Auditorium Gervasio, è proseguita ieri sera a Matera la seconda edizione della Festa di Avvenire, al centro del talk moderato dal giornalista materano Vito Salinaro da anni nella redazione del Quotidiano Cattolico il tema della sanità, con particolare riferimento alle eccellenze, ovvero ai modelli per il Paese in termini di ricerca e innovazione affrontato con ospiti, come sempre per l'evento in questione, di assoluto rilievo. Sono infatti intervenuti Paolo Rotelli, presidente del gruppo ospedaliero San Donato, 18 strutture tra Lombardia ed Emilia Romagna, tra cui anche il San Raffaele di Milano, e Domenico Francesco Crupi, direttore della Casa a Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, cui si è aggiunto il presidente della regione basilicata Marcello Pittella. Interessanti contenuti affrontati, utili anche a superare alcuni luoghi comuni sulla sanità nazionale, sempre meno distinta tra pubblica e privata, quali le carenze strutturali e qualitative, a patto che si riprenda a investire a livello statale sul servizio sanitario nazionale e al contempo più sulla ricerca in una logica di miglioramento continuo. Qual è a suo avviso lo stato di salute della sanità italiana? Attualmente è molto buono, lo dicono tutti i gradatori internazionali. Secondo l'MS siamo il secondo migliore Paese al mondo per sanità, secondo Bloomberg siamo il Paese più sano al mondo, quindi attualmente è molto buono. Il problema è per quanto? Mi spiego. Lo Stato italiano investe sempre meno in sanità. Siamo uno dei Paesi che spende meno per il nostro sistema sanitario nazionale. Prima spendevamo il 7,2% del PIL di spesa pubblica, oggi solo il 6,8% e si pensa di scendere al 6,7%. Mentre la richiesta sanitaria del nostro Paese, con una popolazione che invecchia sempre di più un aumento delle patologie croniche è in continuo aumento, quindi il rischio è di arrivare in una situazione dove non si riesce a curare tutte le persone che hanno bisogno di cura e qui la sanità italiana rischia di perdere la partita che sta vincendo in questo momento. Quindi oggi è il momento di pensare al futuro per continuare a essere a vertice gradatore internazionale. La sanità italiana è una delle sanità più avanzate perché accoglie dei valori che democrazie molto più avanzate delle nostre non accolgono, che è l'universalismo, la sanità per tutti. Chiaramente questo ha dei costi. Il fatto che abbia dei costi si deve spingere a impegnarci sempre più a capire come si spendono le risorse, come si consumano le risorse. Io penso che questo è il problema della sanità italiana. Il non sapere, con metodo chiaramente, come si spendono i soldi. I famosi costi standard che, voglio dirlo, non è il prezzo della siringa, è qualcosa di molto più sofisticato e complesso.